Ciao a tutti da Cristian Tinger, il salutatore del blog, grande sorpresa, il grandissimo Piff, che ha la sorpresa di tutti gli amici di Youtube, MySpace, Facebook e Twitter. Ciao! Grandissimo Piff, salutiamo le Iene? Salutiamo le Iene! E tutti i fans delle Iene? E tutti i fans, uno per uno! Uno per uno, ciao, grande! Ciao!